eccoci ragazzi parte 4 mi raccomando mettete mi piace e iscrivetevi al canale e delle bibite della nostra rubrica sulle bibite allora dobbiamo fare super velocemente perché tra poco non si vedrà più niente quindi questa cola simplicola non so minimamente cosa sia andremo a provarla immediatamente subito proprio fa di moda nei paesi dell'est no del nord è rossa o sbaglio le zanzare ci stanno massacrando probabilmente torneremo a casa con un litro in meno di sangue sembra un miso tra coca cola zero e pepsi sembra una pepsi zero ecco no non mi piace molto devo 5 e mezzo è strana e ambigua niente dobbiamo muoverci quindi prossimo episodio ciao ragazzi